Nuovo piano regionale dei rifiuti in Puglia al via il processo partecipativo. La nuova strategia restituisce centralità al bene comune e alla tutela dell'ambiente. No a nuove discariche e impianti di incenerimento, ha dichiarato il governatore Michele Emiliano. Il servizio. Presentato dal presidente dell'Aggiunta regionale pugliese Michele Emiliano è il documento di proposta del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Per la prima volta l'adozione del piano sarà integrata con quanto previsto dalla legge sulla partecipazione con l'istituzione di tavoli di confronto che si svolgeranno presso la Casa della Partecipazione nella Fiera del Levante di Bari. Il primo appuntamento è fissato per il prossimo 26 giugno e sono state invitate le associazioni ambientaliste di volontariato e dei consumatori. Via via si terranno gli altri incontri. Il piano inquadra la gestione dei rifiuti urbani e dei loro trattamenti è quella dei fanghi di depurazione con l'obiettivo della chiusura del ciclo. Gli obiettivi sono la riduzione del 5% della produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL al 2020 rispetto al 2010, la riduzione del 10% della produzione pro capite di rifiuti urbani al 2025 rispetto al 2015, la riduzione del 30% della produzione di rifiuti alimentari rispetto al 2015 nel 2025. Le azioni saranno costituite da incentivi ai comuni per la tariffazione puntuale, agevolazioni di carattere fiscale e tariffaria per gli operatori economici, accordi di programma con associazioni di categoria e con la grande distribuzione organizzata. Entro il 2020 si raggiungerà la percentuale minima del 65% di raccolta differenziata con l'organizzazione dei sistemi di raccolta in maniera tale da consentire la distinzione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. Saranno organizzati i sistemi di raccolta per minimizzare la presenza di frazioni estrane nella raccolta differenziata. I comuni saranno incentivati per la realizzazione dei centri comunali di raccolta, la perimetrazione delle aree omogenee per i sistemi di raccolta, lo spazzamento e trasporto. Tra gli obiettivi è anche l'incremento del riuso, riciclaggio e recupero di materia con la realizzazione di impianti pubblici per il trattamento e recupero ai fini della chiusura del ciclo di gestione degli imballaggi e l'introduzione dell'obbligo di avvio al recupero dei materiali riciclabili come metalli e plastiche da rifiuti urbani indifferenziati.